La pioggia non ha fermato il bus brandizzato con i colori sociali della UGL partito il 9 aprile da Roma. Qui in particolare siamo a Pescara. Quale futuro si prospetta alla luce della situazione attuale del Covid? Il superamento della crisi sanitaria, dell'emergenza sanitaria è quello che ci consentirà di iniziare a verificare come aprire le attività. Devono essere riaperti molto velocemente perché c'è una situazione di malessere. Stamattina a Pescara ci sono state manifestazioni, ieri a Roma ci sono stati scontri con la polizia. Incomincia a diventare un'insofferenza che produce anche degli atti di violenza, che ovviamente dai quali ci dissociamo, come si dissociano tutti quanti, ma che purtroppo testimoniano un disagio grandissimo. Quello che bisogna fare è intervenire immediatamente, intervenire attraverso anche aperture mirate rispetto ad alcune categorie merceologiche perché non si spiega come per esempio si chiudono i ristoranti la sera e si tengono aperti la mattina finché è stato così. Bisogna verificare veramente dove avvengono i contagi. Noi abbiamo in questo momento, l'Istat lo ha certificato, lo ha fotografato una settimana fa, 960 mila disoccupati. Non c'era l'obbligo di non licenziare, quindi sono disoccupati perché sono saltate intere filiere, che sono quelle del turismo, quelle dell'accoglienza, quelle della distribuzione non alimentare, quella della stagionalità, dove lavorano uomini e donne e soprattutto giovani. Quindi il governo deve tenere conto di queste situazioni insieme a quelle che hanno determinato nel frattempo la cassa integrazione per tantissimi lavoratori nel nostro paese che devono riprendere a lavorare, devono avere il loro stipendio e devono riprendere a consumare. La situazione in Abruzzo è assolutamente disastrosa così come tutta Italia. Abbiamo scelto la Pilkington perché è il centro di un sito industriale molto importante per l'economia abruzzese, ma registriamo in continuazione delle perdite sostanziali. Noi come sindacato facciamo pressione sia sul governo nazionale che quello regionale affinché vengono attuate quelle che sono già le opere, per esempio la zona economica speciale. Stiamo attendendo un commissario e in questo momento l'appello è basta con i campanilismi, non è proprio il momento per fare campanilismi, abbiamo bisogno di agire in fretta.